Si intitola fisioterapia e molestie sessuali. Questo servizio che mi ha molto e profondamente colpito a firma di Matteo Igliani, la Iena del nord dell'Italia. Colpito perché la Iena italiana Matteo ci parla di un terapeuta, il quale si sarebbe spinto, secondo la mia opinione, del tutto personale, un po' troppo oltre, un po' troppo in profondità. Quindi oltre i comuni e normalissimi trattamenti che ogni fisioterapista svolge. Insomma, avrebbe fatto costui, infatti, svestire delle persone, probabilmente donne, sarebbe andato un po' troppo in là con le mani, toccando e mettendo le mani, piegando le mani, secondo la mia opinione, un po' troppo in parti, per così dire, non proprio così giuste, ma forse un po' troppo strategiche, avrebbe utilizzato le piacevoli e grandi accoglietti e sapienti mani per toccare insomma parte del corpo che probabilmente non sarebbero state toccate, che non sarebbero dovute state toccate. Questo è quello che penso, utenti, e vi termino qua. Complimenti a Matteo Igliani per l'ottimo servizio realizzato, 16 minuti di servizio, www.iene.medesep.it per vedere tutti i servizi, anche questo di Matteo Igliani. Iscrivetevi e commentate se in tale video fossero presenti, insattissime, scuso, in quanto chi vi parla non è un giornalista, pertanto e scuso su di me, eventuali responsabilità. E voici un rianto, grazie.